E' a mischiare No, o faccio quello che lo sa Faccio quello che lo sa E' quello che lo sa, non è completo Io sono proprio il bagno No, non lo faccio proprio Il banditore Vado nel remasto bimbi Io voglio solo ricavare Ma chi sta vuole fare di più? Ma voglio fare il ragazzo Sto muovendo la camera Sto muovendo la camera come un grande ruolo Guarda che andrà su Youtube Ma non potete vedere La paradisella e la balena Sto già su Youtube No Tutto il mondo saprà che Vittorio stava una balena Ci saranno delle carte rosse e delle carte blu in questo marzo Mischiate tutti insieme Adesso voi farete un'asta Io toglierò le carte rosse Fino alle carte blu Quando ci sarà la carta blu Se ce ne sono due di fila Quello che ha vinto l'asta Prende due carte di fila Se ce ne è una sola Se vale il numero di carte blu di fila E' un minimo di uno E' un promulgione Esatto E' una video lezione I soldi I soldi E' una video lezione Che non hai Allora io faccio E' un minimo Allora io faccio vele fila Puoi spiegare un attimo Ci sono le carte blu Serebbe 40 meno quelle che ho dato a voi Ve lo assegno per casa A casa vi pensate queste carte blu di fila Ma quante sono i bruto? 40 Siamo pronti Siamo pronti Siamo pronti Marco Mara non gioca Marco Mara Allora si parte Per la prima atta Parto da 20 centesimi 30 40 50 60 65 70 80 81 1 euro 1 euro e 1 1 euro e 5 Non fare 5 1 euro e 10 1 euro e 21 1 euro e 50 1 euro e 50 1 euro e 52 1 euro e 63 1 euro e 60 1 euro e 60 per il signorino con gli occhiali all'angolo 1 euro e 61 1 euro e 62 1 euro e 63 1 euro e 60 1 euro e 2 1 euro e 3 carte 1 euro e 51 2 1 euro e 60 per il signorino con gli occhio Come si è! Lui è un grande Lui ha una parola Lui ha una parola E gli ha una parola E gli ha una parola 1 euro e 50 per il signorino con gli occhio cosa succede? un oggetto contundente oddio! no! ti voglio stare a casa ti voglio stare a casa oddio! guardate, guardate guardate, guardate io voglio fare il bar di te c'è un euro ma vedete se devo mettere 1,50 ho perso io voglio fare il bar di te si ma io ho già messo 2 euro ho già messo 2 euro continuo a perdere voglio fare il banditore non solo i giochi, hai detto non gioco no ma gioca con me gioca con me ma il banditore è incluso il giocatore ma gioca lui per me, questo parte da 1 euro io ho messo i soldi 1 euro 1 euro e 10 1 euro e 10 euro 2 euro 2 euro 2 euro 2 euro 2 2 1 è quella che mi farà vincere voi lo sapete se fin con questa basta della banca a ah 4 ma 6 10 10 10 30 30 40 30 40 40 40 40 80 40 80 2 euro per francesca foglio 2 euro e 1, l'ha detto? 2 euro e 2 2 euro e 3 ma non vale, c'è la grande distribuzione che fa fuori mucchia 1, 2 ma no, tu cazzo cazzo, 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 cazzo cazzo, cazzo, cazzo cazzo, 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 cazzo cazzo, 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 cazzo basta con questi capitalisti che comprano tutto la maglia dei barba papà fottuti monopolisti che bella la maglia dei barba papà hanno ucciso noi piccoli venditori all'età la maglia dei barba papà 1 euro 1,10 1,10 e 1 ricordiamo prestata a Vanetta 1,40 per me è ritornata indietro dopo me e non ha voluto altro in cambio 1,61 1,80 e 1 1,80 e 2 euro e 10 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 1,20 1,20 ma io ho pagato 2 euro e che cazzo ci sto guadagnando e io non ne hai pagato niente si ho pagato 2 euro per due carte del cazzo ah ho visto quelli iniziali tu ah ok credo che tu ti convenga comprare qualcosa si se no eh ma Michele io non voglio spendere altre cose no tu vi vincerei con quelle due carte le belle soddisfacioni te le trovi sempre proviamo pure io vediamo Altri sogni non li ho messo Mi do tre becce Mi do tre becce No Hai un dei due piedi Quella fine Sono morita tutti i fatti Sì allora io non ho mai chiuso a dire vince Teoricamente Sono meno di chi la sei E due o due piedi Non avrete Quarto non le cambiate Delle brutte Sono stati a giudicare 50 80 1 euro 3 euro 3 euro 3 euro 3 euro e 1 3 euro e 2 3 euro e 2 Una cassa Sono sparato 1 euro e 50 Sarà quella che ci farà Un figlio Un figlio Non c'era Voleva fare lo sborone Qui si parte da 2 euro Vinceremo 2 euro Ehhh Eh sì perché 2 10 2 10 2 10 2 10 2 20 e 1 2 30 e 1 Ma cazzo tu è vero Per concludere ho voluto via una sacca di soldi Ma cazzo tu è vero Però con quella carta Andiamo a vedere che carta Per i nostri amici telespettatori Guarda Io semplicemente non ho accortato i soldi Ma cazzo è una madonna D'altro la cosa è diventata più grande di me Perché? Si si vede Aggiungete gente Io lo so Allora ragazzi andiamo avanti Alta per i poveri 10 centesimi 50 70 1 euro 20 30 40 50 50 Che sbatta 60 Un milione 80 90 Ti comunque è una ladrata Pochi euro 12 1 2 euro Variati euro Tu 20 20 Un milione 200 20 Per due 20 3 6 8 9